Vaffanculo... Buongiorno sono Giorgio di Fastweb Buongiorno Fumagalli di Milano Senta non va un cazzo qua internet Sul computer cosa vede? Un porno Nel senso cosa le dice riguardo la connessione? Porco di*** sto per esplodere E' tutto a posto non capisco Ha per caso il modem davanti? Si Eh mi dica quale luce è accesa Quella in bagno Cazzo faccio la spengo Le luci sul modem? Ah meno male perché c'è mio nonno che caca Poi quello si addormenta Ha provato a spegnere il computer? Non ho mai trovato il tasto Questo fuma talmente tanto Che quando muore con le ceneri ci fanno la shish Provi a spegnere il modem Minchia uguale a mio nonno Cioè? Ho fatto una cacata